ciao ragazze e benvenute nella mia night routine in questo video vi mostrerò tutto quello che faccio quando torno a casa questo è un pensiero che mi ha fatto trovare Dario per il nostro mesiversario non è stupendo questo è il mio alberello con tutti i doni di natale che amo tantissimo questo è una pallina di natale che ci hanno decorato a mano ovviamente non possono mancare le coccole con pupi ogni volta che torno a casa passo sempre un po di tempo con lei a giocare prima di iniziare a pensare a cosa preparare per cena eccomi in cucina decido di preparare un piatto fit ma comunque buonissimo che vi consiglio di provare se non l'avete mai fatto la carbonara fit adesso passo un po di tempo con Dario sul divano a guardare netflix e poi inizio a posare tutti i miei gioielli e ovviamente gioielli carità giuoli li metto nel mio cofanetto a posto e poi inizio a prepararmi per la night routine vera e propria tutti i link dei prodotti che utilizzo ve li metto nel box informazione sotto come al solito li trovate su calitashop.com questo muro corpo che amo che favorisce l'abbronzatura naturale della pelle quindi un leggero potere auto abbronzante poi ho utilizzato anche la crema corpo al cioccolato e il importante utilizzo l'acqua micellare di alchemilla che mi piace tantissimo poiché non brucia gli occhi e strucca tutto il trucco sia dal viso che dagli occhi e anche dalle labbra successivamente ragazze un passo importantissimo è quello di lavare il miso il viso per eliminare tutte le impurità e quindi eliminare i punti neri le imperfezioni io vi straconsiglio questo prodotto io sto utilizzando tutti e tre prodotti di questa linea il detergente viso appunto ai sali del mar morto che è molto purificante e dopo utilizzerò anche la maschera e il siero sono ottimi per purificare la pelle ed eliminare punti neri brufoli e imperfezioni sono veramente favolosi a questo punto ragazze faccio una meravigliosa maschera viso poiché in questo periodo ho la pelle un po impura faccio questa maschera che veramente strong una maschera d'argilla e sali del mar morto la amo perché è molto molto purificante è perfetta se avete la pelle grassa e impura perché appunto elimina tutte le imperfezioni e le impurità dal viso vi consiglio di farla anche tre quattro volte a settimana se avete la pelle molto impura dopo aver fatto agire la maschera per circa 10 minuti questa agisce subito vado a rimuoverla con una spugnettina bagnata con acqua tipida ragazze poi sul viso spruzzo la mia magnifica acqua attiva alla melissa la adoro è un'acqua purificante che la uso come se fosse un tonico e poi la picchietto con le mani serve tantissimo a purificare la pelle e chiudere poli dilatati e poi ha un profumo buonissimo adesso metto questo siero che con cellule staminali e sali del mar morto è favoloso per distendere la pelle eliminare le rughe e le imperfezioni infatti appunto fa ringiovanire la pelle in sole quattro settimane di sei anni è veramente portentoso elimina rughette segni di espressione e imperfezioni dal viso dopo il siero aprico la crema sto utilizzando questa crema purificante che ve la consiglio soprattutto per la notte poiché ha un potere purificante che agisce tutta la notte sul viso quindi al mattino vi sveglierete con la pelle molto molto purificata sugli occhi sul contorno occhi metto questa crema al contorno occhi appunto che elimina sia le rughe che le occhiaie mi piace tantissimo perché ha una funzione appunto sia anti rughe che anti occhiaie occhi gonfi borse e poi subito si asciuga quindi è molto molto piacevole la potete utilizzare sia di mattina che di sera ragazzi un piccolo trucchetto che vi do è quello di applicare la crema contorno occhi sempre anche sul contorno labbra in questo modo va a distendere le rughette sul contorno labbra e mantiene questa zona idratata che soggetta molto spesso alla formazione di rughe questo punto non mi resta che lavare i denti con il mio dentifricio all'aloe vera sbiancante che lo amo tantissimo lascia la bocca fresca e l'alito molto profumato alla fine ragazze non può mancare un balsamo labbra questo è alla menta quindi ha un potere volumizzante e aloe e menta è veramente favoloso che bella la sensazione di pelle pulita morbida purificata quindi sono pronta per andare a letto ovviamente ragazzi non può mancare il pigiama natalizio questo è un pigiama che ho da un annetto l'ho comprato da itch&em questo punto preparo una tisana una bella tisana calda sia per me che per d'ario e mi accingo ad andare a letto accendo sempre una cannella profumata questa è fantastica ed è ecobio ovviamente anche questa la trovate sul mio shop online è una cannella fatta da soli oli e burri naturali che può essere utilizzata anche come massaggio corpo quindi è favolosa perché il fumo che sprigiona non danneggia le vie respiratorie quindi è poi profumatissima e piacevolissima adesso questi sono gli ultimi prodotti che utilizzo a letto ovvero la mia crema mani al cacao che è molto molto nutriente appunto fa parte della stessa linea della crema corpo e del bagno doccia che ho utilizzato all'inizio della routine appunto e lascia la pelle morbidissima e molto profumata di cioccolato io adoro questa linea al cacao e adesso indosso i miei guantini questi guantini ve li consiglio se avete la pelle delle mani secche perché sono molto nutrienti basta tenerli venti minuti sulle mani alla sera o anche di giorno quando avete un po' di tempo e ripara tutte le screpolature sulle mani lascia la pelle morbidissima e anche va a nutrire anche le unghie quindi sia maniche unghie a questo punto mi dedico sempre un po' a lavorare quindi al pc e poi infine applico il mio bassa molabbra volumizzante al cocco sono malata di burro cacao e bassa molabbra quindi ne metto in quantità industriali però davvero questa è l'unica cosa che mi assicura di avere sempre delle labbra morbide e turgide siamo pronte per andare a letto io pupi siamo super dolce e coccolose quindi non ci resta che spegnere la luce e addomentarci ragazze spero che questa night routine vi sia piaciuta lasciate un pollice in su al video e guardate nel box informazione la lista dei prodotti vi aspetto su caritashop.com buonanotte buonanotte Sto male Oh via mamma Ah due bei pomodori Adoro Adoro Questo è un ottimo prodotto Perché questo ha le celebre staminali Dei sei anni più giovani In quattro settimane Dammi il mio computer Sono bellissimi Ho fatto un outfit da letto troppo bello Dove sono belli eh Mmm cioccolato Forse questo è meglio che li mettevamo dopo però Capito quando mi vado a dormire e me li metto Che schifo Che buona Ah Dammi il mamma tua Che felice Che felice Si Adesso Svegliamo Mmm Non vuole niente No ti parla No 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 Grazie a tutti.